Nel campionato faremo la disamina di quello che è stato, ognuno si prenderà le proprie responsabilità. E' vero che i conti si fanno alla fine, però è altrettanto vero che domenica è l'ennesima sfida da non sbagliare, da non fallire per Lavellino e Massimo Rastelli, sempre più solo contro tutti. Ne è perfettamente consapevole. A Castellammare l'emergenza è serissima, D'Angelo e Tito sono squalificati, Benedetti non ha nulla di rotto, però di certo non recupera per ora. Ai e Dall'Oio sono ormai lungodeggenti, trotta a qualche problema fisico tra polso e caviglia, ma è la testa a non andare soprattutto nella direzione giusta. Insomma, l'unica buona notizia è rappresentata dal ritorno tra i pali di Pasquale Pane. Non si tocca il 4-3-3, anche se le porte chiuse per ennesima volta hanno fatto pensare al contrario. Il dubbio del tecnico riguarda la fascia sinistra. La trasfetta di Cerignola ha dimostrato che schierare Ricciardi a destra e Rizzo a sinistra, entrambi rifidati, tra l'altro un'operazione rischiosa per usare un eufemismo possibile che a questo punto a Rastelli si giochi la carta Sottini, unico sinistro puro rimasto arrolabile all'interno di una difesa disastrata tra squalifiche e infortuni. Soluzione comunque di ripiego se si considera che l'ex pistoiese predilige giocare da difensore centrale o al massimo da braccetto di sinistra. A centrocampo l'assenza di D'Angelo permetterà Mazzocco, che deve farsi perdonare dopo l'errore clamoroso di Taranto, di rientrare tra i titolari con Matera e Casarini a completare il reparto. In attacco servono i gol di Marconi, a secco dalla sfida col Foggia, non manca mai la forza d'urto di Russo, mentre di Gaudi e Canutè, il secondo in vantaggio per partire titolare, devono essere meno fumo e molto più arrosto. Questo l'aspetto tecnico-tattico, quello motivazionale, psicologico, resta precario o fragile, gli errori dei singoli che hanno condizionato le ultime partite non sono corregibili, se non dagli stessi protagonisti che devono cacciare fuori un po' di orgoglio. Sta a loro dare una svolta, cambiare un percorso che non è scritto, perché fino al 23 aprile c'è ancora tanto tempo.